Salve e benvenuti. Sono fiero di presentarvi il primo M18 Fuel Packout Aspiratore Solidi Liquid di 9,5 litri, completamente compatibile con il sistema di stoccaggio modulare Packout. Questo aspiratore è uno degli utensili più richiesti e compatibili con Packout. Quando si puliscono normali detriti, questo aspiratore fornisce fino al 60% di aspirazione in più rispetto alla maggior parte dei concorrenti a 18V. Questo aspiratore è ottimizzato per impieghi orientati al servizio, ideale per il taglio e applicazioni di pulizia generale a umido e a secco. Qui vediamo la sua potenza rispetto a un concorrente a 18V. Maggiore è la potenza di aspirazione, più polvere si può togliere dal luogo di lavoro. L'aspiratore Packout fornisce fino a 50 minuti di tempo di utilizzo. Questo aspiratore ha una mobilità impareggiabile che fa risparmiare tempo in sito. È completamente compatibile con il sistema modulare Packout, consentendo all'utente di muoversi più velocemente sul sito, risparmiando viaggi da e verso il furgone. L'aspiratore ha anche una maniglia superiore con una maggiore mobilità quando non è sulla pila Packout. L'aspiratore Packout include un filtro EPA H13 lavabile, lo stesso dei nostri attuali aspiratori M18VC2 ed M12. Il filtro EPA universale è anche disponibile come accessorio. E per tutti questi aspiratori offriamo anche il filtro da umido e i sacchietti. Questo aspiratore è anche dotato di una gamma di accessori riposti al suo interno. Include anche un adattatore per connetterlo facilmente ai nostri utensili, come l'utensile multifunzione M18Fuel. L'aspiratore M18Fuel Packout è il più efficiente, versatile e portatile aspiratore sul mercato. È un altro utensile che dimostra il nostro impegno continuo su salute e sicurezza qui alla Milwaukee.